Ancora un lutto nel mondo della musica, se n'è andato George Martin, il produttore dei Beatles, aveva 90 anni. Ringo Starr ha confermato la notizia su Twitter commentando Grazie per tutto il tuo amore e la tua gentilezza. Il primo ministro britannico David Cameron gli ha reso omaggio definendolo un gigante della musica. Martin era soprannominato il quinto Beatle e come gli altri quattro era stato insegnato del titolo di Sir. Figlio di un falegname, dopo l'arruolamento nell'esercito aveva frequentato la prestigiosa accademia musicale Guildhall e cominciato a suonare come oboista in piccoli locali. La sua carriera come discografico inizia nel 1950, prima nello staff della EMI, poi acquisendo la Parlophone e infine creando un'etichetta indipendente nel 65 dopo i primi successi realizzati con i Beatles. Ha prodotto dischi di molti altri artisti, inclusi Elton John e Celine Dion e il suo ultimo lavoro è del 2006. George Martin suonava oltre al lobo e il pianoforte e ha spesso eseguito e diretto brani dei Beatles riarrangiati per orchestra.